Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Che energetica che sono oggi Ok, allora, questo qui è un video, come vi ho detto qui sotto Cosa faccio quando non dormo? Ovvero un video ignorante, inutile e senza senso No, sto scherzando, non è così È che voi qualche volta le classificate così questi tipi di video Ma in realtà, riassumiamo tutte queste cose in ironia Ovvero questo video è super ultra mega ironico So che vi piacciono molto i video così, ovvero con le scenette E molto tempo fa ne facevo tanti Ora ho iniziato a farne di meno Ma se ne volete, appunto, lasciate like E fatemelo sapere qua sotto nei commenti Se ne volete di più Cosa faccio quando non dormo? Ovviamente non faccio tutte queste cose quando non dormo Però, appunto, per farvi ridere, insomma, per ironia Quanto sto giosticolando Giosticolando, ragazzi Manco giosticolando, giosticolando Va bene, joystick Ok, basta Ricordo di andarmi a seguire su tutti i miei social Se ancora non mi seguite Soprattutto su Instagram Quindi vi mando un grosso bateo E godete qui E godete qui Faccio amore per l'italiano E godetevi questo video Ciao No No No, 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 no Ti prego, ti prego No, 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 no Ho dimenticato il carico batteri giù Vabbè Lo ando a prendere quando sarà il 2% Ho caldo Ho caldo Ho caldo Basta Ho caldo Ma che ore saranno? Ah sì, ho un orologio Ho un'idea Una pecorella Due pecorelle Tre pecorelle Ma non funziona Ma non funziona Gli unicorni Un unicorno Due unicorni Tre unicorni Un fenicottero Due fenicotteri Basta Ho caldo Ho caldo Aia Ma che male Silenzio Sì Sì Ma perché non si stai Sì Ma Basta Basta Tu non hai fame Sei solo annoiata Tu non hai fame Sei solo annoiata Tu No Io ho fame Basta La situazione è così tumblr Poi Con questo bicchiere Ho caldo Ho caldo Ho caldo Perché i fenicotteri Sono Ro Rosa Ok Interessante Sì Molto Cioè Rimedi Per Non riesco a scrivere Rimedi Per Dormire Insonnia Non so se ho capito Bene Shhh Non so stare zitta Non capisci mai niente Non sto zitta Cosa fare Quando Non si riesce A dormire Ok Non siamo insonni Vediamo Cosa c'è scritto Respirare profondamente Ok Dopo Respirare profondamente Per 4 secondi 1 2 3 4 Respirare profondamente Per altri 7 secondi 1 2 3 4 5 6 7 So contare Per altri 8 1 2 5 8 Ripetere questo procedimento Per altre 3 volte No 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 Non se ne parla Gli unicorni Esistono Sì Mmm Ma qui c'è scritto Di no Uffa Cosa potrei fare Idea Potrei Leggere un bel libro Ma che voglio prendere in giro Che figo questo Vediamo dove abita California Ma è una gioia Sì E poi un giorno Insieme a lui E cibo Principese Castelli Unicorni Cibo Unicorni Cibo E basta Devo smettere di farmi questi film mentali Tanto non esiste nulla nella vita reale Tu non hai fame Sei solo annoiata Tu No Io ho fame Basta Oh no Ma è finita l'acqua Dove moro Aspetta aspetta Forse mi è venuto un po' di sonno Sì Cos'è quella? Luce del sole Sole? Ah capelli Va bene Ciao Ciao Bene Buonanotte